Amici di Venti Vino, ciao! Siamo qui con l'amico Filippo. Ciao! Benvenuti e ben trovati. Oggi abbiamo un valore di spivino, si chiama Sofocone di Vinci Glià. Esatto. È un vino del 2010 di Bibi Graz e vino della Toscana, un meraviglioso San Giovese di 14 gradi. Andiamo a vedere la nuova dimostrazione. Allora, rosso, classico del San Giovese, non troppo scuro, però con dei riflessi granati. Limpido e consistente, visto che siamo sui 14 gradi. Siamo sui 15 gradi. Siamo sui 15 gradi, un po' di frutta, fragole e amalè, anche questa leggera vaniglia. Passaggio in legno si sente, è dosato molto bene, perché non dà assolutamente alcuni gradi. Sentiamolo in bocca. Secco, molto morbido, questo vino pronto da bere. Caldo, siamo sempre sui 15 gradi, il tannino è già molto levigato, non è assolutamente invadente. Il classico San Giovese, lui è un'azienda bellissima sulle colline di Fiesole, è proprio vista Firenze e consiglio anche di visitarla. E quando uno vuole bere un buon San Giovese, deve bere un vino del 2010. Esatto. La temperatura è di 14-16 gradi, direi che come abbinamenti potranno andare su, una cosa che vi fa impazzire, dei fegatelli grigliati con foglie di alloro, oppure un bel brisotto maremoti, con carne e con pesce. Salsiccia e i gamberetti. Perfetto. Amici di vino in vino! Sofocone! Per tutti! Per tutti! Ciao! Ste, non tagliare il soffocone per tutti! Facciamo 5 e diamo!